Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 8 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al km 267 tra Firenze Nord, bivio con la variante di Valico Baccheraia. Ancora verso Bologna per lavori col siedi destra chiuse tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci ed è chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Sulla FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna un km di coda in direzione Firenze. Ancora per lavori un km di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!